Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno ragazzi bentornati in questo nuovissimo video io sono cecchianato e oggi siamo qui in un nuovissimo video di fortnite per andare a vedere leak veramente interessanti oggi parleremo forse già della prima persona guarderemo qualcosina ma vi consiglio di stare sintonizzati nel canale perché vi farò poi vedere altri spoiler magari su uno shorts proprio di un gameplay della prima persona quindi credo che esca alle 18 grossomodo poi andremo a vedere altri leak ricompensa gratis se accedete ora su fortnite per alcuni poi dipende dalla distribuzione quanto ci mette e altre ovviamente novità per iniziare il solito like, iscrizione e detto questo partiamo con la prima news partiamo con la collaborazione con My Hero Academia che ragazzi abbiamo una data finalmente sarà il 16 dicembre la data in cui ovviamente sarà disponibile nello shop l'intero bundle di My Hero Academia che comprenderà diverse skin nello shop che potrete prendere credo ognuna 1200 V-Bucks dato che sono un bel po' non credo che le facciano costare 1500 anche se mai dire mai quindi credo è grosso modo il costo comunque dovrebbe essere 1200 poi ovviamente ci sarà anche il bundle a prezzo scontato quindi tranquilli e niente quindi questa è la data in cui dovrebbe arrivare questa collaborazione qua parliamo poi ragazzi del primo NPC in arrivo su fortnite che avrà la possibilità di guarirti quindi non si parla di con lingotti mi prendo le cure eccetera no proprio il bot, l'NPC ti potrà curare potrai assumerla per seguirti e curarti quando hai bisogno di guarigioni il che è una cosa veramente molto molto bella come idea quindi fatemi sapere cosa ne pensate al momento chiaramente non è ancora disponibile è una cosa che verrà aggiunta in futuro però secondo me ci sta veramente molto alcune sezioni poi dello shop sono state aggiornate aggiunte alle app di gioco il che vuol dire che a breve ragazzi potrebbero nuovamente anzi arriveranno sicuramente al 100% nel negozio di soggetti fortnite tra cui il set No Way Home di Spider-Man abbiamo poi la guerra futura e insomma altre sezioni che potete tranquillamente vedere qui alla mia destra c'è anche la stagione che sono tutti cosmetici chiaramente d'inverno che stanno tre altre cose arrivando ruotando nello shop poi abbiamo diversi bando all'armadietto insomma vedete tutto qui alla mia destra tutto questo ovviamente uscirà poi altra cosa importante oggi ragazzi farà anche decriptata nei file di gioco la skin di Hulk che arriverà poi se non erro gioidi nel negozio oggetti non vorrei dire una cavolata ora controllo e poi presto arriverà una nuova meccanica ragazzi che consentirà ai giocatori di arrampicarsi sulle montagne quindi vedremo un po' come sarà se ci sarà un oggetto che magari ti farà scalare le montagne oppure se proprio ci sarà questa meccanica vera e propria che potremo scalare con le mani qualsiasi tipo insomma di montagna quindi questa è una nuova cosa che sicuramente vedremo arrivare durante il proseguo della stagione prima persona ragazzi eccola qui vi metto innanzitutto questa immagine si è la prima immagine ufficiale secondo i vari rumor della prima persona che come ben sappiamo sarà una modalità che secondo me ragazzi arriverà già in questa stagione se tutto va come deve andare e Epic riesce a fare tutti ovviamente tutti gli aggiornamenti che deve fare ovviamente per essere implementata anche perché ovviamente come la no build c'è tantissimo lavoro dietro in una nuova modalità quindi insomma è una prima persona che potrebbe anche esserci molti bug quindi devono sistemare quindi va un po' alle lunghe però sono sicuro che ci lavorano già da molto e secondo me potremmo vederla verso metà stagione o verso la fine però verso la fine non credo perché di solito le grandi aggiunte arrivano o all'inizio direttamente o qualche patch dopo prima diciamo della metà della stagione quindi secondo me potremmo ragazzi già vederla breve e comunque questa è la prima immagine è veramente bellissima per il mio la prima persona su Fortnite non so cosa ne pensate voi nel senso che in molti la vedono una cosa orribile il fatto che non si possa vedere la skin ma detto sinceramente abbiamo la terza persona che comunque è già giocabile ovviamente nella modalità build detto sinceramente nella no build io trovo più sensato una modalità in prima persona in effetti che in terza perché nelle costruzioni ci sta ovviamente che sia in terza perché sennò come build è un po' un macello però in una modalità no build comunque sono d'accordo nel mettere la prima persona anche se io ho detto sinceramente fossi Epic farei una modalità no build in prima persona una modalità in no build sempre ovviamente però in terza persona io le dividerei a prescindere per eventuali insomma problematiche che potrebbero solgere nella community che magari a non tutti piace eccetera comunque rimanete sintonizzati ragazzi perché credo verso le 18 vi metto poi uno short anche del sempre su YouTube basta andate nella sezione short se li trovate perché adesso li hanno divisi non sono più una sezione video ma c'è proprio una sezione dedicata se voi andate verso le 18 qui sul mio canale dovreste trovare un gameplay ufficiale della prima persona che commenteremo più tardi quindi insieme nello shorts detto questo passiamo all'ultima news che riguarda un ricompensa gratis infatti se accedete ora su Fortnite in giornata vi sarà sicuramente già stata consegnata o verrà consegnata più tardi dipende perché a volte ci sono dei ritardi in alcuni account altre volte magari arrivano prima quindi dipende un po' sempre dalla fortuna diciamo dipende ovviamente da Epic però grosso modo entro oggi dovreste ricevere questa copertura armi perché ovviamente ha insomma giocato un minimo di arena credo che anche un punto per esempio bastava per sbloccare questa bellissima copertura armi esclusiva che ovviamente non tornerà mai più quindi ovviamente è una copertura che viene data in base alla divisione che avete raggiunto nella scorsa edizione di arena della scorsa stagione quindi dello scorso capitolo fatemi sapere se l'avete già ricevuta o la dovete ancora ricevere intanto qua a schermo ecco un bug enorme non so se vi è capitato sta cosa che vi teletrasporta da una parte all'altra fateci caso ogni tanto c'è questo bug che è un po' strano vabbè detto questo noi ci vediamo domani anzi più tardi anche alle 18 con uno short domani alle 16 con un video news like iscrizione e niente ci vediamo dopo bai